Salvare teatro e servizi si può. Dopo tre ore di assemblea è stato nominato come socio unico il liquidatore. Sarà Luca Di Orio, già revisore in comune ai tempi della giunta Ricci, a risanare la società partecipata del comune di Chieti, teatro e servizi, per la quale è stata imposta la liquidazione dall'amministratore unico Massimo Marchetti. Il comune, la mia amministrazione, dà il compito anche di portare a risanamento in bonus la società attraverso un piano concordatario in continuità ovviamente di lavoro. In primis ci saranno da ripianare le perdite per 409 mila euro e poi tutelare i 37 dipendenti. Siamo positivi, siamo ottimisti soprattutto e questo lo dirò sempre per le tante famiglie che sono interessate dalle vicende di teatro e servizi, dalle famiglie di quegli uomini e di quelle donne che vengono ogni giorno a lavorare e lo hanno fatto per anni senza avere la certezza che il giorno dopo avrebbero continuato a lavorare. Quello che voglio dire è che la nostra presa di coscienza e il nostro atto di coraggio e di dovere è per la cittadinanza. Probabilmente qualcun altro dovrebbe farsi la domanda se è stato altrettanto coraggioso e altrettanto rispettoso verso la società.